Gaff di Antonino Spinalvese al GF VIP, nomina ex Belen al posto di Gaele, ho sbagliato. Gaff di Antonino Spinalvese al grande fratello VIP. Dopo la puntata del 30 gennaio, l'airstilist si è lasciato sfuggire il nome di Belen Rodriguez, sua ex compagna, al posto di quello di Gaele De Dona. Subito dopo si è tappato la bocca, dicendo di aver sbagliato. Ecco cos'è successo. Dopo la puntata del GF VIP, rivolgendosi direttamente alla telecamera in compagnia di Edoardo Tavassi e Andrea Maestrelli, Spinalvese stava spiegando di voler approfondire la conoscenza di Gaele e del marito Brad, ma nel pronunciare la frase, ha sbagliato il nome della coinquilina chiamandola Belena, sua ex fidanzata nonché mamma della figlia Luna Marie. Brad quando fai queste cene noi vogliamo essere più tuoi amici che di Belena. ha detto l'airstilist. Subito dopo si è messo da solo le mani sulla bocca, accorgendosi di aver appena commesso una gaffe. Tavassi gli ha chiesto cosa fosse successo e lui è replicato, niente, ho sbagliato, ho sbagliato. Mi è uscito. Spinalvese e Belena hanno avuto insieme la figlia Luna Marie. La piccola, per l'airstilist. è una parte fondamentale della sua vita e per questo sta avvertendo molto la sua mancanza da quando è entrato nella casa del GF VIP. Ormai lo scorso settembre, sempre all'intero delle reality, il concorrente ha raccontato in che rapporti è con la ex. Che gli permette tranquillamente di vedere la bambina, nonostante in passato ci siano state delle tensioni, siamo in buoni rapporti. Ci sentiamo. Luna è la mia vita, fuori di qui non so stare senza di lei. Una volta ho chiamato Belen chiedendo di poter vedere mia figlia ancora un po'. Per questo dico che i rapporti sono buoni ed estesi, la chiamo e vedo la bambina. Grazie. Grazie a tutti.